Il buongiorno arriva anche da Cristian De Luca questa mattina in regia, tra poco inizieremo con la nostra rassegna stampa, ieri intanto, ieri sera a Teramo la sfilata per l'edizione della Coppa Interamnia che abbiamo proposto in diretta, insomma un bel evento che rianima la città di Teramo con la presenza di tantissimi giovani e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. Detto questo andiamo subito a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro che torna sull'episodio accaduto circa due mesi fa, pestaggio al giambo, minori nei guai a Pescara dopo due mesi la polizia denuncia quattro pescaresi, figli di professionisti, ancora una volta si ripete questo cliché, se vogliamo autori di episodi di cronaca sono tutti figli della Pescara bene in qualche modo. A Casalbordino invece caccia al ladro, 10 cittadini però sono indagati per minacce, il ladro poi comunque è stato arrestato. Villalago riserva simbolo, sentiero dedicato all'Orsa Marena, pienone per i turisti, Montesilvano lega fuori dalla giunta e a Pescara confronto fino a tardi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sul nome della quarta donna. Il calcio di Serie C, il Pescara si tratta per Damiani, piace il mediano del Palermo, Merola verso la conferma, ricordiamo che il Pescara ha ufficializzato l'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina. Pescara muore per un'infezione, l'Asle deve risarcire. Cucinelli torna a penne, incontro con la città. In taglio alto il Covid si risveglia, parruti, registriamo nuovi casi e ricoveri. Le spiagge all'asta via alla delibera della regione. A proposito di spiagge all'asta, andiamo un attimo a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo perché sulla Bolkestein c'è l'intervento del governatore Marco Marsigli indennizza i balneatori, il litorale all'asta, le regole dettate da Marsiglio. Questa è la notizia che viene proposta in prima pagina anche dal messaggero. Il messaggero che parla anche di sanità, visite garantite un mese su due, le attese della sanità, la metà degli accertamenti oltre il tempo massimo di 120 giorni. Dalla regione arriva un richiamo alle Asle chiesti dei miglioramenti in tempi rapidi. Pescara, nodo in carico ad Albore Mascia, anche il messaggero parla del comune di Pescara che deve ancora scendere in campo con la propria squadra di governo, il sindaco Masci è alle prese con alcune grane, Forza Italia frena sull'ex sindaco, altro vertice a vuoto, l'ex sindaco Albore Mascia. L'Aquila, operaio giù dal lucernaio nel primo giorno di lavoro, sono gravi le sue condizioni, è volato da un'altezza di circa 6-7 metri. Dal Badriadica, irregolari 4 dipendenti su 6 carabinieri vanno nell'albergo e lo fanno chiudere. Poi da Civitanova a Pescara, aggrappato al locomotore Challenger, sfide ad alto rischio, è stato individuato dagli agenti della polizia ferroviaria. Poi un altro episodio, un ragazzo che si butta dal ponte del mare, salvo, ma viene multato, sarà multato perché pare che non sia stato ancora identificato con le telecamere. Da Intesa San Paolo, 2 miliardi alle imprese, il credito, i fondi favoriranno l'accesso ai progetti del PNRR validi fino al 2026. Taglio alto, Cristicchi all'Aquila e Amara, concerto mistico dedicato a Franco Battiato, Montesilvano, Radio Spiaggia, disturba c'è chi paga intanto per gli spot silenziosi, è un'iniziativa di un imprenditore, poi vedremo all'interno. Pescara serie C, l'ala Bentivegna, primo rinforzo per Silvio Baldini. Torniamo sulla prima pagina del centro, questa volta l'edizione di Teramo, ha ucciso il papà, ha chiesto alla perizia via al processo per l'omicidio della stazione 92, coltellate alla vittima. Altre notizie, fotonotizie che riguardano intanto tutte e quattro le edizioni. A Sulmona, 96 confraternite sfilano nel nome di Celestino Quinto. Nuovo teatro, sbloccato il cantiere, il comune paga 450 mila Euro al titolare di Sottosopra per liberare i locali. Poi vedremo un servizio sulla questione del cantiere sbloccato con Cristian De Luca in regia. Andiamo avanti, lavoro nero in albergo, intanto dobbiamo verificare una cosa. Sì, eccoci qua. Dicevamo appunto lavoro nero in un albergo, denunciata la titolare, l'intervento dei carabinieri. E poi Teramo, la Coppa Interamini a sfila in centro, la festa serale per l'apertura. Lo vedete in taglio basso la notizia che riguarda la Coppa Interamia che vi abbiamo proposto, ieri sera in diretta con la sfilata delle squadre. Andiamo poi sulla prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Eccola qua la notizia. Caccia al ladro, 10 cittadini indagati a casa l'incontrata. Sono accusati di minacce verso un giovane che è stato poi arrestato perché sembrerebbe responsabile di una serie di furti in città. Ortona denuncia shock, marito geloso, picchia e offende la moglie per anni. L'estia lontano, provvedimento del giudice. Stellantis produce sotto le previsioni nel primo semestre del 2024 la crescita nella fabbrica della Val di Sangro. Si ferma al 2% a livello nazionale. Comunque i dati che riguardano Stellantis fanno registrare un calo del 25% della produzione. Chieti il rischio crollo nel quartiere Santa Maria. Fra nel comitato si mobilita. Giovedì sarà svelato il progetto per delocalizzare i palazzi. Abbasto, lavori fermi al porto, il comune alza la voce. Lotta allo spaccio, sequestri di droga a Ortona e San Salvo. L'edizione dell'Aquila Vezzano Sulmona, sempre con la prima pagina. Cade da 7 metri grave un operaio. L'incidente in un cantiere a fossa, 32 anni a terra sui bancali di legno. Rogo al tribunale, lira dei magistrati all'Aquila dopo i dipendenti con la mascherina. Nuova protesta sulla salubrità dei locali. E poi una storia toccante a Tagliacozzo. Domani ci saranno i funerali di Laura Salvatori, la donna di 43 anni, che ha lasciato comunque una lettera carica d'amore. Così nell'ospedale amo la vita, ho voglia di sole sulla pelle. Però purtroppo non ce l'ha fatta. È scomparsa domenica scorsa, tornerà domani nella sua città, nel suo paese. Ce l'hanno inaugurato il Covalpa 2.0 con altri 50 posti di lavoro. Sulmona, discarica e malattie, monitoraggi all'Asl. Torniamo sul messaggero, andiamo all'interno. Le liste d'attesa per quanto riguarda la sanità, garantita una prestazione su due. Nuovo richiamo alle Asle, il report dell'Agenzia Sanitaria regionale. Criticità soprattutto per le programmate, percentuali basse per alcuni esami di base. Ecco la mappa dei ritardi su tutti i territori. Sulla vicenda hanno acceso i riflettori il governo e anche la procura di Pescara. Le audizioni, il manager di Chieti, nel Consiglio regionale. In chiesta clinica e quaglieri chiede il dissequestro di PC e telefonino. Il ricorso esaminato dal Tribunale del Riesame che dovrebbe decidere in giornata indagini che sono ad una svolta. Andiamo a Pescara, ovviamente le rogne, se vogliamo definirle così per il Sindaco Carlo Masci, in vista della composizione della squadra di governo. Anche Fratelli d'Italia indichi due donne. La giunta entro venerdì, richiesta ufficiale di sospire a Cardelli che convoca i suoi oggi per la risposta. Il Sindaco aspetta una rosa di nomi, ma il tempo gioca a favore degli uscenti. Forza Italia darà la lista giovedì, la Lega punta su Sulpizio. Pescara, Futura invece con il nodo albore-Mascia. Sì al Consiglio a Rancitelli, Masci vicino al vigile ferito. E poi De Martinis è già al lavoro, amicone Sandias, i volti nuovi nell'esecutivo. A Montesilvano, prima seduta del nuovo Consiglio. De Martinis ringrazia gli elettori e presenta la sua squadra di governo. Non ha perso tempo il Sindaco De Martinis, il Sindaco di Montesilvano, un po' come Ivan Costantini a Giulianova che nell'arco di pochi giorni ha varato la squadra di governo. Pescara, il tuffo dal ponte del mare filmato per una challenge, telecamere al setaccio per identificare l'autore che sarà multato dalla Capitaneria. Viaggia per 100 chilometri, aggrappato alla coda del treno, 18enne di Ancona scoperto dalla polfera all'arrivo a Pescara. Davvero i giovani ultimamente stanno perdendo il senso della vita, il valore della vita, perché è chiaro che situazioni di questo genere mettono a repentaglio la stessa loro vita. Fontanella, il ritorno delle piromani, a fuoco nella notte l'auto di una donna chiara, la natura dolosa. Indagini complesse la scorsa estate, numerosi precedenti nel quartiere. Bagnanti disturbati da radiomare, un imprenditore compra spot muti, silenzio garantito, la provocazione dell'immobiliarista Alessio Sara per garantire il riposo in spiaggia. A spasso con il coltello una denuncia a Rancitelli. Andiamo all'Aquila, precipita dal lucernaio nel primo giorno di lavoro, operario grave, condizioni critiche per il 32enne Macedone ricoverato in prognosi riservata. Avviate le indagini da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'ASL, disposto il sequestro dell'area cantierata. Ieri la riapertura dopo l'incendio del Tribunale, protesta per l'area irrespirabile. Aborto farmacologico, il servizio sarà riattivato, l'ASL torna sui propri passi dopo il sit-in dell'associazione fuorigenere. Peperoncino chiude tra le polemiche il titolare della pizzeria, sopraffatti da ostacoli urbanistici e burocratici. Una gru blocca il paese da tre anni a Preturo, occupa l'unica strada percorribile, causando gravi problemi e disagi alla viabilità. Andiamo ad Avezzano con la notizia che riguarda l'arresto nei giorni scorsi di Andrea Pecorelli, l'imprenditore tra le altre cose, presidente dell'Avezzano Calcio. Pecorelli vuole parlare, oggi l'interrogatorio, resta il nodo dell'iscrizione dell'Avezzano al campionato di serie di ottimismo in città. La posizione dell'ex presidente Paris che torna a offrire la sua candidatura. Padre e figlio sono finiti, lo ricordiamo, agli arresti per autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione. Laura ritorna nella sua tagliacozzo l'addio al convento di San Francesco, dicevamo appunto di Laura Salvatori, 43 anni, che è scomparsa, 44, è scomparsa nei giorni scorsi, tornerà da Milano. Il mercato settimanale a piazza Capo Grassi a Sulmona, incendio a Vittorito, devasta alcuni uliveti, vigneti salvi grazie ai volontari, sotto accusa un agricoltore che ha bruciato le sterpaglie, si contano le perdite, i danni sono ingenti. Rivi Sondoli in festa per l'arrivo della Salernitana, tifosi fino al 25 il ritiro della Salernitana, Rivi Sondoli Salernitana che viene accreditata per il ritorno immediato in Serie A. Scatena promosso arbitro di Serie A, Avezzano e Sulta, Gabriele Scatena che ha 34 anni ed è membro dell'AIA sezione di Avezzano, è stato da poco promosso nella Commissione Arbitri Nazionale, la canna di Serie A e Serie B, dicevamo appunto un risultato di prestigio per lo sport locale, in modo particolare della Marsica. Andiamo a Chieti, a secco per un giorno, 5 quartieri, una domenica da incubo, torna il problema dell'acqua, dell'approvvigionamento di acqua potabile, esplode la rabbia dei residenti, grazie all'azienda che ci ha lasciato senza acqua, la portata idrica ridotta della metà, il comune chiede chiaramente all'ACA, gli orari di chiusura annunciati non corrispondono alla reale carenza, si annuncia un'estate difficile. Il caso, la bimba rapita è ancora in Germania, complesse le procedure per il rientro, la curatrice sarà accompagnata dalla mobile a San Giovanni, si cerca intanto la coppia d'affido. La sanità buona, la buona sanità, pazienti e social, progetto innovativo a cura della reumatologia pediatrica. Lavori ad architettura tutti assolti in Ateneo, c'è stata la sentenza proprio l'altro ieri. E poi la sanità che non funziona, subito tre presidi sanitari per l'assistenza ai turisti, definite le prime soluzioni per l'estate, al tavolo di ieri in prefettura con i sindaci, più ambulanze tra Vasto e San Salvo, Menna, ora va organizzato il servizio, sono stati messi alcuni paletti, però è chiaro che bisogna adesso intervenire e agire. Un intervento mirato è stato sollecitato nella zona montana di Palena, non inclusa nell'intesa sui mezzi per il soccorso. Turni ridotti all'ex Sevel, cassa integrazione per 800 ad Atessa e poi Vasto quattro etti di eroina nell'auto arrestato. Cimitero, danno al comune di Vasto, condannati in tre dalla Corte dei Conti. Andiamo adesso a Teramo, scontri nel derby di calcio, condannati quattro tifosi nei guai tre ultra del Teramo, un giugliese, la partita incriminata è quella di febbraio. Assolti per il trauma cranica del carabiniere, erano già stati emessi dal questore 28 d'Aspo. Il militare non si era costituito parte civile, ma era stato ascoltato comunque in aula. Uccise il padre con 90 coltellate, la difesa punta sulla perizia psichiatrica. L'omicidio lo scorso 20 novembre nell'abitazione di Via Lecrispi, dove vivevano i due. Conare styling degli edifici scolastici diventeranno spazi polifunzionali. E poi, trovato l'accordo con Sottosopra, avvia i lavori di recupero del teatro. E allora, a proposito di teatro a Teramo, visto che il comune ha trovato una soluzione, ha pagato circa 400 mila euro al titolare di Sottosopra, andiamo a seguire il servizio. Si sblocca una che aveva finora tenuto sotto scacco una delle opere di riqualificazione più importanti nel programma dell'amministrazione di Teramo, il restauro del teatro comunale, finanziato attraverso il PNRR. Domani mattina, infatti, partiranno i lavori di allestimento del cantiere esterno del teatro. Il via libera arriva a seguito dell'accordo raggiunto oggi tra il comune e la proprietà del negozio di abbigliamento Sottosopra, che per anni ha occupato i locali al pieno terra dell'immobile in Corso San Giorgio. L'accordo chiude il contenzioso nato a seguito dell'esigenza del comune di rientrare in possesso dei locali in affitto per permettere i lavori. La società titolare del negozio, la Vero SRL, aveva opposto ricorso vedendosi riconoscere dal tarro un indennizzo di 685 mila euro a fronte di una richiesta di ben 8 milioni. L'accordo odierno, invece, prevede un indennizzo espropriativo di 450 mila euro a favore del privato, somma già rientrante nel quadro economico dell'opera. L'atto sottoscritto dagli uffici, commenta il sindaco Gian Guido d'Alberto, segna un accordo che tutela tutte le parti in causa, con la prevalenza assoluta dell'interesse pubblico. Al di là del contenzioso, aggiunge il sindaco, il comune avrebbe dovuto in ogni caso trovare un'intesa che riconoscesse alla proprietà gli investimenti fatti sulla struttura in questi anni e i costi del trasferimento. Via libera, dunque, sin da domani al cantiere del teatro comunale, intervento del valore complessivo di oltre 10 milioni e 700 mila euro, che dovrà concludersi entro i tempi dettati dal PNRR, cioè il 2026. Dal canto suo, l'attività commerciale continuerà ad operare sul territorio comunale, con due punti vendita in centro storico e un megastore che aprirà in autunno a San Nicolo a Tordino, tutelando così anche numerosi posti di lavoro. Ci spostiamo sulla costa con il messaggero, andiamo a Giulianova, due inquilini prigionieri nell'ascensore bloccato, paura nel palazzo popolare dell'Atero, uomo si sente male, sfondata la cabina. L'elevatore è al momento inutilizzabile dei disabili che non possono uscire di casa. Rifiuti sulla spiaggia, la protesta dei balneatori e poi ad Albadriatica, irregolari 4 lavoratori su 6, albergo chiuso, poi riassume tutti. Pagata la multa e regolarizzato il personale, l'hotel ha potuto riprendere la sua attività. Pineto, a manchi in comune, caccia i complici del dipendente. Continuano le indagini sul dipendente dell'ufficio comunale di Pineto, addetto alla riscossione presso l'ufficio tributi, accusato di aver sottratto al momento circa 35 mila Euro, ma una cifra destinata a crescere anche notevolmente, dalle casse dell'ente facendo pagare ai contribuenti le imposte per poi intascarle. Restano per il momento ferme a sé le denunce dei pinetesi che si sono visti recapitare una cartella esattoriale con sollecito di pagamento, anche se avevano pagato regolarmente quanto dovuto, ma stando a quanto si apprende da chi sta investigando sulla vicenda, è solo questione di tempo perché ulteriori cartelle arriveranno nei prossimi giorni ai cittadini. Ed è una vicenda che il sindaco, il neosindaco Alberto Dell'Orletta si è ritrovato tra le mani proprio subito dopo la sua investitura. Turismo Atri apre per l'estate tutti i siti culturali. Adesso lo sport, anzi diamo uno sguardo un po' all'inserto del messaggero per quanto riguarda l'Abruzzo, l'estate da bere e Iugo il drink da non perdere, poi grandi compositori nell'autunno del colibri sempre a Pescara e poi ai cantieri il tributo a Battiato, all'Aquila, Simone Cristicchi, amara alle 21.30 ai piedi della scalinata di San Bernardino per tributare insomma con il loro concerto quanto dovuto ad un grande artista come Franco Battiato. El Mammut, la star dei musei all'Aquila, ha scoppito il fossile più amato protagonista della notte bianca di scoppito e ambasciatore per grandi eventi. A Sulmona, giostra cavalleresca, ha presentato il Palio, la giostra di Sulmona dunque in programma il 27 e il 28 luglio, lo ricordiamo, in Piazza Maggiore. Lo sport adesso Pescara, Bentivegna il primo acquisto, la sinistra arriva dalla Juve Stabia, oggi la trattativa può già chiudersi, le rete di Merola può essere manzare, ma deve prima liberarsi dal Sassuolo. Discorsi ben avviati anche con l'esperto Foresta dell'ex Alessandria. Poi Mister Baldini, lunedì la presentazione, il tecnico arriverà venerdì in città e porterà nel suo staff il figlio Mattia. Gaia Sabatini, confessione su Instagram, brutto periodo, Mauro ha spicco il volo, l'atleta Terramana ha sfumato il sogno delle Olimpiadi, un virus mi ha impedito la rivincita. Calcio di Serie C ancora con il Pineto, l'attaccante svincolato dalla Latina, si parla di Fabrizia, titolo definitivo decisivo il DS di Giuseppe, Marcello Di Giuseppe che lo aveva voluto proprio in Nerazzurro alla Latina quando era direttore sportivo della società laziale. Il secondo acquisto importante dopo quello di Del Sole, inevitabili le partenze, restano dubbi sulla volontà di Volpicelli. Il Teramo, calcio di Serie D, incontro tra il Sindaco e il Presidente Biancorosso, tra gli obiettivi anche Forgione, passi avanti per lo stadio, torna Pietro Antonio, piace intanto Mantini. Leggiamo dal frontemercato, c'è anche l'ex Lorenzo De Grazia nel Mirino, De Grazia Scuola Ascoli, bel giocatore, tra l'altro aveva vinto un campionato di Serie D proprio con la Maceratese quando all'epoca era un under, la dirigenza sta concentrando in questi giorni le attenzioni sul centrocampo e oltre a Cosimo Forgione, 32 anni nella scorsa stagione a Chieti e Giorgio Mantini, 26 anni in uscita dall'Aquila, c'è anche De Grazia, ex Biancorosso come gli altri due profili su cui il direttore sportivo Paolo Dercole e l'allenatore Marco Pomante stanno riflettendo. L'Aquila, ecco Belloni, darò il massimo, ufficiale anche Casella e 3 under di talento, Iacullo nel Mirino. Poi Giulianova è ufficiale la domanda di ripescaggio in una gradatoria ufficiosa, i giallorossi sarebbero quinti e c'è una situazione particolare perché al momento 5 squadre sono escluse sicure dal campionato di Serie D, comunque squadre ritenute a rischio di iscrizione sarebbero Montebelluna, la cui società ha annunciato proprio di non iscriversi al campionato di Serie D dopo 20 anni, poi Rotonda, anche qui la società ufficializzata, poi Terracina, Rieti e Dolbia, ma ci sono da verificare poi le posizioni di Fermana, Alessandria, Oltrepoca, Anicattì e Ragusa. Il Mociano scatenato, provasto prime mosse, altri 3 innesti per la matricola, Folgore molto attiva, il Mociano è una di quelle società che vorrà recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di eccellenza, Mociano a guida tecnica con Guido Di Fabio, allonatore espertissimo e che ha vinto il campionato dopo aver salvato il Mociano due stagioni fa, lo scorso anno, la scorsa stagione ha centrato l'obiettivo di riportare Giallorossi dopo 12 anni in eccellenza. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa, alle 9 troverete Dorotea Mazzetta con il proprio ospite, con la rubrica colazione, poi l'informazione che tornerà alle 14 con il Genius e a seguire il J-Sport. Bene, è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata, arrivederci! Grazie a tutti!